Una sconfitta maturata dalla distanza, praticamente un Novara che si scopre fragile e si tiri da lontano. Sì, è andata proprio male, non siamo riusciti a raddrizzare una partita dove abbiamo preso tre gol da metà campo, succede, abbiamo pagato l'assenza del portiere, più che dei giolli sono stati anche dei tiri cercati, dunque abbiamo le nostre colpe perché da centro campo non si può lasciare liberi di calciare così anche se è da lontano. E poi ce l'abbiamo messa tutta, però l'impegno c'è stato, ma quando non vuole entrare, è pali, è ribattute e purtroppo nelle uniche due ripartenze abbiamo preso gol. Comunque bisogna fare i complimenti al Pavia perché ha fatto veramente una bella partita e alla fine ha anche meritato di vincere. Il vostro forcing è stato praticamente tambureggiante in attacco, però vi siete scoperti parecchi in contropiede. Sì, possiamo riuscire a organizzare le nostre occasioni e gli avversari sono stati bravi a ripartire in contropiede e in contropiede la partita. Il gol più spettacolare della giornata però è il tuo, con quella mezza rovesciata nel primo tempo. Grazie a me, un pari che mi hanno aiutato a fare volta, purtroppo non è servito e non è lì sul campo finale. Va bene, grazie mille. Ciao. Ciao.